Allora, ascoltatemi bene, oggi è 2 agosto, quindi siamo in piena estate e questo è un video rivolto solo ed esclusivamente alle donne che risiedono in provincia di Lecce, oppure alle turiste donne che si trovano in questo momento in provincia di Lecce. No assoluto uomini offroci. Io ho voglia di fare sesso, ho voglia di fare sesso in maniera proprio sproporzionata, sono automunito, io cerco donne molto porche, molto disinibite, fidanzate, sposate, maiale, monelle, tutte le genere di donne che ci sono sul mercato, ecco. e niente, le sto cercando, le sto cercando. Le condizioni sono queste, sono molto semplici. Voi dovete contattarmi, no, voi dovete contattarmi a questo indirizzo Skype che è Giuseppe Simone 2, dovete contattarmi, naturalmente quando sono in linea e vi lascio praticamente l'indirizzo dove ci dobbiamo incontrare, praticamente voi dovete venire nel mio paese che è Neviano, si trova in provincia di Lecce e non vi lascio praticamente l'indirizzo dove abito per questioni di sicurezza perché su internet praticamente si fanno parecchi scherzi e vi indico il punto dove ci dobbiamo incontrare. Si fanno le dovute conoscenze chiaramente e poi naturalmente ci si stabilisce la scopata, ci si stabilisce. Io a casa mia non è molto accogliente, ecco, cioè è pulita, per carità di Dio, è pulita, solo che è un po' da sistemare. Comunque nella mia camera di letto c'è un letto matrimoniale molto grande e ci si può scopare. Comunque al primo incontro dovete venire voi nel mio paese, dovete venire voi nel mio paese, io che vi aspettate che io venga da io nel vostro paese e poi devo prendere il bidone, proprio non se ne parla, non se ne parla e non se ne parla. Come dovete essere? Beh, dovete essere formose, bocca carnosa, una bella quarta, una bella quinta, molto porche, molto disinibite, capelli ondulati o lisci, occhi verdi, insomma, questo genere di donna che io preferisco. La saziarmi a letto. Tutto qui, tutto qui. Spero di essere stato chiaro, fatevi sentire e io vi aspetto. Ciao.